Nel prossimo Consiglio regionale straordinario da noi richiesto incalzeremo l'esecutivo Marsilio affinché il commissariamento non diventi un alibi, uno scaricabarile per l'inerzia finora dimostrata. Lo dice negli studi del fatto di Reteotto il consigliere regionale Giovanni Legnini, leader della coalizione di opposizione civica e di centrosinistra, sottolineando come la Regione possa e debba recitare un ruolo ben preciso. Occorre che la Regione non soltanto non si spogli delle proprie competenze, non si allontani se stessa e l'esercizio responsabile delle sue funzioni dal problema, ma si faccia carico di coordinare i soggetti locali, i soggetti istituzionali che sono a vario titolo coinvolti in questa delicata vicenda, assuma il potere e il dovere di rappresentanza delle funzioni pubbliche e degli interessi della comunità abruzzese, che è altra cosa al dire commissario, va bene ma per eseguire i lavori, per fare le procedure con celerità, per provvedere tempestivamente con le risorse adeguate che non ancora si intravedono e siamo a zero ad oggi, è inutile che si dica che il Ministero delle Infrastrutture ha manifestato attenzione, interesse, se ci mancherebbe altro, è poco manifestare attenzione, bisogna decidere, stanziare le risorse, avviare gli interventi, perché sono in gioco interessi e valori troppo importanti per la nostra ricerca.